Ricevitoria Gerace a Monteponelito Da noi puoi giocare Super Enaotto, Totogol, Totocalcio, Tris Giornaliere e Win4Life ogni ora Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint Ricariche telefoniche Pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio Ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace Vi aspettiamo in via Padre Pio a Monteponelito Su di noi puoi scommetterci Svegliarsi presto la domenica mattina pensando soltanto alle cose da fare prima, durante e dopo la partita È il compito dei dirigenti, degli allenatori, dei giocatori e degli ultras Capaci di amare la propria squadra con una passione stratosferica Gentili te spettatori di S1 TV, buon pomeriggio dal comunale di Montepaone, Frabotto Mannis Dove la squadra esterna 65 di S1 TV guidata da Pasquale Lentini, con il montaggio di Antonio Siciliano La partecipazione a titolo amichevole di Giuseppe Ranieri in qualità di opinionista Di Maurizio Vatrano, signore dei numeri e delle statistiche, oggi anche con due discepoli E con la voce di Giorgio De Filippis è lieta di presentarvi un incontro di cartello della quinta giornata Del campionato di prima categoria Girone C calabrese tra Real Montepaone e Borgia Due squadre importanti per il comprensorio, due squadre di grande tradizione Due squadre che stanno riempiendo il Frabotto Mannis, il comunale Con numerosa presenza anche di tifosi ospiti che hanno già da parecchio tempo Occupato il settore a loro dedicato È una sfida importante, noi non possiamo che salutare appunto Giuseppe Ranieri Ormai opinionista principe di questa esterna 65 Che è qui pronto a darci già delle indicazioni importanti su quello che è un match ugualmente importante Amici sportivi, buon pomeriggio dal comunale di Montepaone Il pre-gara tra Real Montepaone e Borgia ha tutto il sapore di un derby A mio parere Giorgio perché come giustamente è anticipato Sono due squadre di tradizione che possono dirla lunga in questo campionato di prima categoria Il Borgia viene da una vittoria secca per 3 a 0 E ha tutta l'intenzione di fare la partita qui a Montepaone Per cui assisteremo sicuramente ad uno spettacolo di calcio molto intenso In questa meravigliosa estate autunnale del Basso Ionio di Montepaone e di Soverato Noi qui in Tribuna Stampa abbiamo la fortuna di poter godere ancora l'aria condizionata E salutiamo un'altra voce giornalistica del Quotidato del Sud Mimmo Cosentino che è lì che sta già guardando cosa succede in campo Mimmo ti disturbiamo, buon pomeriggio Nel tuo salottino e la Tribuna Stampa c'è l'aria condizionata? Ma oggi si sta bene, oggi è una bella giornata Quindi non c'è bisogno né di aria condizionata né di riscaldamento Un pronostico secco, come finisce Montepaone e Borgia? Secondo me vince chi segna Mimmo è sempre caustico e preciso e quindi vedremo chi segnerà di più Mentre intanto agli ordini del signor Giuseppe Florio di Locri E sotto lo scrosciante applauso dei numerosi tifosi che hanno riempito e gremito Anche il secondo anello e il fra Botto Mannis Stanno scendendo in campo le due squadre La squadra di casa, il Montepaone con la tradizionale ormai divisa bianca con inserti giallo-verdi E la squadra ospite, il Borgia con una casacca granata, calzettoni e calzoncini neri Che appunto permette di distinguere nettamente le due formazioni E mentre il signor Florio fischia per salutare e per dare inizio a quelli che sono Tutti i comportamenti da svolgere prima all'inizio della gara Noi andiamo a leggervi le formazioni Il Borgia scende in campo con Benincasa, Leone e Zavaglia Alfieri, Russo, Scarfone, Codamo, Mellace, Passafaro, Pilò e Marco Doria In panchina mister Maurizio Magro porta con sé Mercurio, Orlanducci, Vincenzo Doria Antonio Citraro, Enrico Citraro, Francesco Procopio e Guerrieri Da quello che vediamo alle distinte Antonio Citraro è addirittura un 2002 Quindi all'anagrafe un forte quindicenne Risponde il Montepone con Lombardo, Francesco Fiorentino Ienco Mellace con I di Nania, Mungo, Marco Voci, Procopio, Cannistra e Paparazzo Mister Alessandro Pisani accanto a sé in panchina Leone, Carpino, Gangale, Chiarelli, Domenico Voci, Giuseppe Fiorentino e Pirritano Stiamo per dare il via alle quelle che potremmo chiamare le ostilità Ma non lo sono visto anche il fair play dei saluti che avete potuto notare tra le panchine Con il Montepone che quando il signor Florio avrà smesso di controllare Tutti i buchi delle reti partirà da sinistra verso destra per quello che è il nostro punto di osservazione Attaccando appunto in senso opposto a quello che farà il Borgia Che invece chiaramente attaccherà da destra verso sinistra E quindi noi siamo pronti mentre si sistemano sulle panchine dopo i saluti anche i giocatori del Montepone Insieme al signor Florio e a tutto il pubblico che gremisce il Frabotto Mannis A dare il via a quella che è una partita, dicevamo di cartello Ma è una partita comunque dall'elevato contenuto tecnico e tattico Tra due squadre che sicuramente ci faranno divertire E si comincia con una sventagliata in favore di Fiorentino Contrato da Codamo che poi aspetta che il pallone vada fuori Proteggendolo con il corpo e quindi guadagnando una rimessa laterale In favore della squadra ospite che da quello che vediamo si dovrebbe schierare con un passafaro in più Il bomber che da sempre segna gol a raffica in tutti i campionati Ruba palla Paparazzo, scambia con Salvatore Procopio Si inserisce però subito Pilò e scambia con Alfieri Che allarga poi sul settore di destra per il numero 10 ancora Pilò Che mette in mezzo un pallone e recupera ancora la palla cercando di andarsene Scambio con Mellace che si accentra, arriva ai 20 metri, tenta il tiro Sicura la presa di Lombardo e subito il Borgia quando non è neanche passato un minuto di gioco Fa sentire appunto la propria presenza in campo con un tiro di Mellace Non difficile per quanto riguarda la parata di Lombardo Ma certamente significativo ai fini dell'impostazione del gioco Intanto Mellace che scambia sul settore destro nella parte bassa della zona difensiva del Monte Paone Conidi che avanza e cerca di imbeccare Fiorentino Chiuso ancora da Codamo che di testa presidia appunto questa fascia Ben sapendo probabilmente Mister Magro che è proprio sulla catena di destra Che il Monte Paone spesso riesce a fare cose egregge Recupera il pallone, ci sembra si tratti di Russo Colpo di testa, controllo della palla di Pilò che evita un avversario Avanza di sinistro, cerca anzi si ferma, evita ancora un avversario Doppio dribbling di Pilò che si accentra e tenta appunto il tiro Che però finisce al lato della porta difesa da Lombardo Giuseppe un inizio scoppiettante del Borgia che certamente vuole dire qualcosa al Monte Paone Sì come già l'avevamo anticipato poc'anzi il Borgia cercherà di fare una bella partita Dei fatti i primi due o tre minuti di gara lo hanno dimostrato Il Borgia è andato a trovare il portiere del Monte Paone per ben due volte E quindi sicuramente sarà una partita tutta da giocare Intanto avanza ancora Conidi, cerca l'imbeccata per Fiorentino Che parte in velocità, buona la chiusura di Zavaglia Che da centrale si sposta, esce fuori e mette la palla in calcio d'angolo Per quello che è il primo calcio d'angolo in favore del Monte Paone Sulla penetrazione di Fiorentino che aveva cercato appunto di aggirare la difesa della squadra ospite Cercando poi di puntare all'interno dei 16 metri dell'area di rigore di Benincasa Ancora tocco per Mellace, di sinistro mette la palla in mezzo Spunta però di testa, attenzione che forse era stata alzata la gamba Comunque Alfieri rinvia e poi va all'attacco di Ienco Che controlla la palla, scambia con Paparazzo Elegante l'1-2 tra i due giocatori Il tocco però favorisce il numero 5 se non andiamo errati russo E riparte ancora il Borgia con tocco per Codamo Che apre per Passafaro e questa volta c'era il fuorigioco Non c'è neanche necessità dell'intervento del nostro monitor di servizio Perché giustamente anche Giuseppe Ranieri nota che si tratta appunto di out Di fuorigioco per almeno un metro con Passafaro defilato sulla destra E la difesa del Montepone che era salita in altro Ancora Mellace che si affida poi al tocco per Marco Voci L'apertura per Fiorentino eccessivamente profonda Codamo controlla che la palla finisca in rimessa laterale E si prepara poi a effettuare appunto la stessa All'altezza quasi della bandierina del calcio d'angolo Chiaramente e probabilmente guadagnando qualche metro Codamo effettua rimessa per Pilò che allunga di testa Prolunga con Mellace che viene anticipato Nello scontro tra appunto con l'altro Mellace Giuseppe Abbiamo Armando Mellace col numero 4 E Giuseppe Mellace col numero 8 nelle due squadre E con Paparazzo e Mellace stessi Stesso che vanno a prepararsi per la battuta Dall'altezza della tre quarti campo Zona d'attacco del Montepaone Con Paparazzo che probabilmente di destro Cercherà l'imbucata per un Salvatore Procopio Che si sta muovendo in maniera a dare fastidio Alla linea difensiva del Borcio Arriva la palla Procopio prolunga Esce con sicurezza ben in casa Fa sua la palla ma certamente si trattava di uno schema Studiato appunto a tavolino dalla formazione del Montepaone Se ne va in velocità il numero 11 Doria Che partiva da posizione Marco Doria Partiva da posizione difensiva E ora stoccherà appunto a Russo Di battere ma ruba palla Procopio Scambia con Marco Voci Allarga poi verso Mungo Ma il pallone finisce tra i piedi di Fiorentino Si ragiona Mellace ancora per Marco Voci Paparazzo apertura a scavalcare La linea difensiva del Borgia Ma l'uscita di Benincasa Preclude ogni possibilità offensiva Alla squadra appunto guidata da mister Pisano Ancora un colpo di spalla di Conidi Che manda la palla nella zona di pertinenza Del numero 5 Russo Scambio ancora con Fiorentino Tocco verso Mungo E la palla finisce in out Ricordiamo che la settimana scorsa Facciamo ancora ammenda Mungo l'abbiamo confuso con Pirritano Per un problema di maglie Quindi un saluto a questo forte giocatore Del Montepaone Che grazie proprio alla prestazione La settimana scorsa Si è guadagnato probabilmente La conferma ai galloni da titolare In questa partita Dicevamo la quinta Che avvede il Montepaone Per quanto riguarda la situazione di classifica Posizionato a 10 punti Dietro il San Calogero Che svolge un po' le funzioni del Napoli Viaggiando a punteggio pieno Quindi se il San Calogero è il Napoli Il Montepaone rappresenta L'Inter, la Roma, la Juventus Tutti insieme Potremmo parlare di una buona Inter E quindi anche perché stasera ci sarà il derby Ma torniamo subito a vedere cosa sta facendo Codamo Che però mette la palla in rimessa laterale Grazie al pressing effettuato dallo stesso Mungo Con Fiorentino che si prepara una battuta lunga Movimento tutti i giocatori Mungo, paparazzo, mette in mezzo il pallone Esce fuori con tranquillità Scarfone ma è ancora mellace Tiro telefonato ma pronto Che vede ben posizionato ben in casa Che con una presa plastica Attutisce l'effetto del tiro scagliato Dal numero 4 del Montepaone Il tocco è per Passafaro Che probabilmente subirà una marcatura arcigna Perché è temuto con i suoi 4 gol Anche quest'anno il capocannoniere Anche se sappiamo che il risultato di ieri Della Serrese In quel di Tropea, nello stadio del Sole di Tropea Ha fatto sì che Zaffino con una partita in più Arrivasse nella classifica ai marcatori A 6 reti Intanto Mellace strappa il pallone a un avversario Evita il ritorno di Alfieri Se ne va però avendo visto che l'avversario è rimasto a terra Appoggia con signorilità il pallone in out Per poter prestare le cure del caso Al giocatore del Borgia è rimasto appunto a terra Dopo il contrasto con Mellace Contrasto come al solito non cattivo Ma soltanto maschio Visto che come ben sappiamo Il calcio è comunque e resta uno sport di contatto Restituisce però la palla il Borgia All'indietro per Lombardo Che con la sua divisa verde Anas Si appoggia poi ancora a Mellace Raddoppio della marcatura su Mellace Da parte di Mellace e di Passafaro E poi lo stesso Lombardo tocca il pallone In direzione di Conidi Che controlla la sfera Avanza, appoggia per Mungo Ha su di sé la pressione di un avversario Nella persona di Pilò Che però poi cambio di fronte A favorire Ienco con ancora Cannistrà e poi Paparazzo Si muovono tutti i giocatori del Monte Paone Così come vuole il credo tattico e tecnico Di Alessandro Pisano Probabilmente la spalla del giocatore del Borgia A interrompere la traiettoria E ancora Fiorentino che tocca per Mungo Ha di fronte a sé il numero 3 Zavaglia Non riesce il dialogo con Fiorentino E si rifugia in rimessa laterale il Borgia Che dopo un inizio vemente Nei primi minuti di gioco Ora che siamo giunti all'ottavo minuto Del primo tempo Con il risultato chiaramente ancora di 0 a 0 Sta controllando le sfuriate del Monte Paone Il ruente l'intervento di Mungo Sul suo omologo di numero Codamo E si riprenderà con una punizione Che praticamente è fischiata dall'arbitro E con Codamo che guadagna qualche metro Prima di affidare appunto Il calcio di rinvio al numero 3 Riconoscibile per le scarpette bianche Zavaglia Che però giustamente come segnalato dall'arbitro Arretra a sua volta la posizione della sfera Lancio lungo di sinistro A scavalcare il centro campo Cannistrà di testa anticipa Passafaro Ed è probabile che proprio Cannistrà Sia l'uomo che dovrà marcare Passafaro Anche se quest'ultimo si muove su tutto il fronte d'attacco E ci sembra di poter parlare di un 5-3-2 Almeno in fase di non possesso Per quanto riguarda il Borgia In attesa appunto di poter poi studiare Lo schema tattico del Monte Paone Che è un po' come studiare Una pagina di filosofia di Heidegger Sì sì Il Monte Paone varia sia Varia l'assetto tattico Sia in fase offensiva Che in fase difensiva Non possiamo sicuramente definirlo Un 4-4-2 puro È chiaro Ma a questo A questo Mister Pisano ci ha abituato ormai da tempo E Insomma È anche un piacere vedere ragionare Questa squadra a volte Intanto fallo di Armando Mellace Parte in penetrazione Alfieri Che controlla la sfera Si appoggia su Marco Doria Che cerca di scucchiaiare la palla Per passafaro Il colpo di testa in chiusura di Nania Ma la palla finisce in out E se abbiamo parlato di Heidegger Noi abbiamo il Socrate L'Aristotele Della filosofia calcistica e della tattica Mimmo Cosentino Secondo te qual è lo schema di oggi Mentre sta prendendo ancora punti A breve ci dirà lo schema Che secondo lui è stato applicato Sia in fase di possesso palla Sia in fase di non possesso Da parte del Montepone Mentre intanto riparte La stessa squadra di Mister Pisano Con Fiorentino Che si allarga Tenta l'imbucata Per Marco Voci Ma il pallone poi C'è Pilò Che lancia in velocità Passafaro Si chiudono le maglie Della difesa del Montepone Con Lombardo Che va a recuperare Insieme a Cannistra Allora Mimmo Uno schema del Montepone Come lo possiamo definire? 4-3-2-1 Per Montepone Mentre per il Borgia C'è un 5-3-2 Per il momento E questo è il giudizio Della Cassazione Inoppugnabile E inopinabile Riprende ancora Il Montepone Tenta il lancio Per Ienco Non riesce A agganciare la sfera Il Millennials Del Montepone E quest'ultima Finisce appunto In out Dove sarà cura Del numero 11 Marco Doria Effettuare la rimessa Con la mano Con tutti i giocatori Che si schierano Il Montepone Che cerca di effettuare Una pressione Fin dall'effettuazione Della rimessa Da parte del Borgia Dicevamo appunto Per quanto riguarda La classifica Ma attenzione Che Passafaro Riceve la palla La carezza con la suola Tocca all'indietro Dove però Non c'è nessun suo compagno E quindi bisogna appoggiarsi Su Zavaglia Che ancora di sinistro Cerca il lancio In profondità Ma in una zona di campo Che non vede la presenza In quel momento Di nessun suo compagno Dicevamo che il Borgia A sette punti A pratichette Frutto di due vittorie Una sconfitta E un pareggio E ha segnato Otto reti Subendone una Mentre invece Il Montepone I suoi dieci punti Sono da tre vittorie E un pareggio E nessuna sconfitta E intanto Attenzione ancora Perché Alfieri Si appoggia su Marco Doria Pressato da Ienco Marco Doria si difende Si appoggia all'indietro Ma ruba il pallone Marco Voci Lancia in profondità Per Procopio Forse ha accelerato Un attimo Per poter Bruciare sullo scatto Sia Scarfone Sia Zavaglia E quindi si chiude Anche in questo caso La morsa difensiva Del Borgia Con un intervento Di paparazzo Intanto su Pilò Che è effettivamente Falloso Giuseppe Il Montepone Cerca di penetrare Centralmente L'arcigna Difesa del Borgia E al momento Fa bene Perché abbiamo visto Come già per tre volte È riuscito Ad arrivare In posizione buona Per provare Una deviazione Un tiro Sì sta giocando bene Sta dimostrando Qualcosina in più Il Montepone Anche se il Borgia Certo non demerita Perché almeno Per quanto riguarda Il bilancio Di questi primi minuti Ha dimostrato Di essere una squadra Coriacea e Arcigna Determinata A non lasciare Facilmente Il campo Ecco Intanto Passafaro E Nania Si scambiano Un paio di cortesie Niente di grave Ma certamente Ognuno dei due Ha la personalità Per poter dire all'altro Occhio che ci sono io E Lombardo Che recupera il pallone Esce addirittura Dall'area di rigore E poi scambia Con Cannistrà Che allarga subito Per Conidi Per cercare appunto Aprendo Il fronte d'attacco Di sfruttare Tutto in orizzontale Il campo Ma ancora Un buon numero Dei giocatori del Borgia Con Codamo Che protegge il pallone Dal ritorno di Fiorentino Si appoggia per Pilò Che certamente Si sta distinguendo In questo primo quarto d'ora Di gioco Per una cifra tecnica Veramente interessante Anche uno dei marcatori Insieme a Passafaro Della squadra Del Borgia Con Codamo Che appunto Si prepara Alla rimessa laterale In una zona però Dove il colpo di petto Di Conidi Impedisce al pallone Di passare E quindi restituisce Qualche metro più avanti La rimessa laterale In favore di un Borgia Per niente intimorito Dal Frabotto Mannis Da questa bomboniera Ricolma di tifosi Che sta appunto Giocando la sua partita Con grande attenzione Marco Voci Apre verso Mungo Che riceve il pallone Sovrapposizione Di Fiorentino Parte Il lancio Il colpo di testa In chiusura Di Codamo Impedisce a Fiorentino Di arrivare In quella zona di campo Dove forse All'altezza dei 16 metri Della zona d'attacco Il Montepaone Il Prato Verde È uguale a quello Di San Silo Procopio Tocco Ancora Codamo Che senza fronzoli Rinvia il pallone Cerca lo stop E lo scatto Passafaro Non riesce a controllare Rimessa laterale Con Cannistra Che allarga subito In direzione di Nania In posizione centrale Quest'ultimo Si appoggia E scambia Con Paparazzo E probabilmente Poi darà Come succede A Cannistra La palla Per poter Riorganizzare Con un Montepaone In questo momento Addirittura Quattro giocatori Sulla linea d'attacco Uno di questi È Fiorentino Ma c'è L'intervento In chiusura Di Zavaglia Molto attento L'undici Di Mister Magro A coprire Tutte le linee di passaggio Che possano favorire Il Montepaone Quest'ultimo Chiaramente A sua volta Attento A sfruttare Queste linee di passaggio Non possiamo Far passare Più di 16 minuti Per salutare I nostri amici Da Cattapalle Ne abbiamo notato uno Poco interessato alla partita Ma con la maglia Di Di Bala E sapeva tirare i rigori Benissimo E quindi un saluto Alla squadra Dei Raccattapalle Mentre intanto È Fiorentino Che si prepara Appunto A effettuare la rimessa Rimessa lunga Al centro dell'area di rigore Grappolo umano La palla rimbalza Alla fine Il numero 4 Alfieri Dopo il colpo di testa Di Russo E Scarfone Con Nania Che vede Passafaro E evita appunto Quest'ultimo Con un tocco All'indietro Nania Non ha avuto Dubbi nell'evitare Appunto Passafaro Che cercava di aggirarlo E ha messo la palla In rimessa laterale E tutto il Borgia Ordinatamente Ma con convinzione Si proietta Nella metà campo Del Monte Paone E se certamente Codamo A suonare la carica A scambiare di petto Con Pilò Ancora Codamo Ma di lì Non si passa Perché c'è un certo Guerriero Armando Mellace Che lo blocca Con decisione Ancora Codamo Per l'altro Mellace Scontro tra Mellace Leone E si tratta di Daniele Che allarga ora il gioco In direzione del numero 5 Russo Che lancia verso Doria Che cerca di prendere in velocità Ienco Raddoppio anche di Nania E ci sembra che Anche Nania Sappia appunto Coprire la zona difensiva E svolgere un lavoro Di coordinamento Insieme a Ienco Che rende importante Anche la catena di sinistra La fascia di sinistra Del gioco del Monte Paone E appunto Nania Che riceve defilato Quasi sull'estremo Della sinistra Del Monte Paone Procopio Che continua a dimostrare Grande familiarità Anche con i fondamentali tecnici Fiorentino Appoggio per Paparazzo Tutto di prima Procopio Colpo di tacco Ma non passa La finezza Del Daniele Leone Che però vede Perde la palla Con Fiorentino Ancora per Paparazzo E Mungo Cerca un colpo di tacco Paparazzo Mi sa Giuseppe Che la parte del terreno Che ho paragonato A San Siro Sia un po' scivolosa Invece Eh sì No 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 È parecchio scivolosa È parecchio scivolosa Infatti già Fiorentino È andato giù due volte Quindi vuol dire Che si scivola Non c'è pressa Sui tacchetti Oppure è stata innaffiata Per renderla più Per permettere alla palla Di scivolare meglio Ma queste sono cose Che fanno in Spagna Al Santiago Bernabéu Dettagli che non volevo Neppure pensare Ed ecco che intanto I sanitari si avvicinano Al giocatore Che ci sembra infortunato Dovrebbe trattarsi Proprio di Nania Speriamo nulla di grave Con mister Pisano Che ne approfitta Per portarsi ai limiti Dell'area tecnica E noi a nostra volta Visto che abbiamo detto Che anche I discepoli Ci fiondiamo Da Maurizio Vatrano Ormai Non più Maurizio Vatrano Ma Vatrano E in France Con i suoi discepoli E qui ormai La gente vuole numeri Cosa hanno detto Questi primi 20 minuti Dal punto di vista Dei numeri Salve a tutti Questa sembra Una partita Veramente difficile Sia da leggere Sotto il punto di vista Proprio numerico È una partita Studiata Entrambe Da entrambi E le squadre Molto probabilmente Chi sbaglierà Per prima Rischierà La rete Di subire la rete Di altro Diciamo Rispetto alle partite precedenti Una partita Abbastanza abbottonata Direi E noi ringraziamo Maurizio Due discepoli Allo stesso livello Uno più bravo Dell'altro Sono di diversità Quindi Il piccolo Diciamo Ha più Speranze di crescita Grazie Maurizio Scusaci se ti abbiamo disturbato E torniamo appunto In telecronaca Con Cannistra Spostato ora A sinistra Che appunto Scambia ancora Con Nania E poi con Conidi Interessante Tutta la catena Di interscambi Che avvengono Nella linea difensiva Del Monte Paone Con Mellace Cannistra Attenzione perché Passafaro Parte in velocità Si inserisce Tra due avversari Evita Cannistra E no Cade Passafaro Suscitando La rabbia Dei tifosi È sembrato quasi Un colpo Dato da Cannistra Ma probabilmente Non c'è niente Noi ci affidiamo A chi ha di fronte A sé un monitor E quindi può giudicare Meglio Cosa è successo Giuseppe? Ma probabilmente È caduto giù Vista la mole Di Cannistra Con il contatto fisico È andato giù Non mi è sembrato Di aver visto Irregolarità Da parte Di Cannistra Comunque Potrebbe averci Anche provato Visto la distanza Dell'arbitro Anche Comunque Un contatto Ora Se fossimo in Serie A E si trattasse Della Juve Tra un quarto d'ora In caso di gol Annullerebbero il gol Per il fallo precedente Ma siamo A Montepaone Quindi torniamo In Telecronaca Attenzione comunque A Passafaro Che si conferma Oltre che Un bravissimo ragazzo Comunque Un attaccante Di gran pregio E quindi sarà Un pomeriggio difficile Per la difesa Del Montepaone Ancora una serie Di colpi di testa Che alla fine Favorisce Alfieri Ma rubata la palla Lancio Verso Procopio Con il capitano Scarfone Che rinvia E ancora un colpo Di testa di Mellace Colpo di testa Di Paparazzo Marco Voci Anticipato da Zavaglia Si protegge Col corpo E poi Scarica il lancio In direzione di Ienco Ancora un colpo Di testa di Doria Anche questo confronto Tra Ienco e Doria È certamente interessante E Zavaglia Che si appoggia Per Pilò Che se ne va In bello stile Accentrandosi All'interno Del centro campo Cambio di gioco Verso Codamo Scende tutto il Borgia Codamo punta L'avversario E viene chiuso Da Fiorentino E probabilmente In questo caso Ha aspettato Un tempo di troppo Prima di scaricare Il passaggio Nei confronti Di Passafaro Ma un ripallo Favorisce ancora Il Borgia Con Pilò Che preferisce Ragionare Appoggiandosi All'indietro Per Zavaglia Gira il pallone Su Scarfone E poi probabilmente Sarà ancora Russo A ricevere La palla E di destro Andare a cercare Passafaro Impreciso Il lancio E la palla Finisce Tra le braccia Di Lombardo Ventunesimo minuto In questo istante E qualche manciata Di secondi Che non stiamo lì A vedere Zero a zero Tra Montepaone E Borgia Ma come giustamente Diceva Maurizio Vatrano Una partita Studiatissima A tavolino Dai due mister Due autentici Strateghi Del mondo Del calcio E che è interpretata Ugualmente bene Dai giocatori Che stanno ragionando Dimostrando Che il calcio E una scienza esatta Nel momento in cui Tutti gli interpreti Fanno il proprio dovere E Cannistra Che controlla Appoggia per Mungo Che si è spostato Da quel lato Il lancio In profondità Verso Procopio Anzi era Marco Voci Che pensava A no look Che ci fosse Dietro di lui Fiorentino Non è così Se ne va In maniera elegante Daniele Leone Fallo Non cattivo Ma importante Dal punto di vista Tattico Di Procopio Che permette Al Montepaone Di rischierarsi Mentre intanto Lo stesso Alfieri Che va a cercare Il numero 8 Mellace Ancora un intervento Dell'altro Mellace Con Mungo Che colpisce Di testa Spizzica di testa Per Ienco Sovrapposizione Colpo di tacco Mungo arriva Di sinistro Cerca di evitare Il numero 4 Alfieri Che è decisissimo L'intervento E' deciso anche Il fischio di Florio Giusta la punizione Se proprio Volessimo cercare Un pelo nell'uovo Forse il Montepaone Sta eccedendo Per quello che riguarda I colpi di tacco Probabilmente Anche mister Pisano Gradirebbe Una maggiore semplicità E fluidità di gioco Che di solito Conosciamo Essere tipica Proprio dei giocatori In maglia bianca Con inserti Giallo-verdi Intanto Scendono i lunghi Procopio Lo stesso Canistra Quattro giocatori All'interno 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 dell'area Di rigore Con Paparazzo Che si prepara Appunto A calciare Mentre c'è qualche Contatto in aria Sotto lo sguardo Di Florio Parte la parabola A rientrare Che cercava Conidi Che non riesce Appunto Ad arrivare Sicuramente Era uno schema Questo La ricerca Del sponda Sul secondo palo In questo caso Però non riuscito Con Il Borgia Appunto Che si prepara Con il numero 5 Russo A calciare Questo calcio Di rinvio Appunto Dalla sinistra Dell'area piccola Del portiere Il lancio Cerca di favorire Il giocatore Numero 2 Si tratta di Daniele Raddoppio Con Mellace Che entra Deciso Prende un calcio Fischia Florio E quindi Si tratterà Di punizione In favore Del Montepaone Che effettivamente Sta alzando Il baricentro Del proprio gioco E ha stretto Nella propria metà campo Direi nei propri 35-40 metri Il Borgia Che però In maniera ordinata Aspetta Pronto a una ripartenza Visto che ormai Il concetto di ripartenza È un classico Nel mondo del calcio Ai miei tempi Si chiamava Contropiede Ai tuoi Giuseppe? Contropiede Contropiede Rimasto sempre quel termine Quindi stiamo svelando A nostra età E vabbè Ma io non lo nascondo Io ho 44 anni E tu Giorgio? 15 Come compiuti da poco Si prepara Paparazzo A battere Sempre la stessa coppia Paparazzo e Mellace Uno di destro E l'altro di sinistro Gran movimento In aria Finta di Mellace Paparazzo Arriva il pallone Viene ribattuto Mellace recupera Controlla Scodella al centro Ancora C'è molto bravo Il numero 7 Codamo E poi tenta la soluzione Il suo omologo Il numero 7 Mungo La palla finisce alta Molto alta Sulla trasversale La porta difesa Da Benincasa Una difesa ordinata Un passafaro in più Sono un po' le armi Del Borgia Senza dimenticare Pilò che finora Ha dato degli spunti tecnici Veramente interessanti Anticipato Codamo Da Mellace Procopio Fa passare la palla La ribattuta Però favorisce Il ritorno di Nania Che scambia con Ienco Che fa scorrere il pallone Si appoggia per Mungo Ora spostato a sinistra Mungo punta Il numero 4 Alfieri Ancora con Ienco La palla arriva al centro E ci pensa Scarfone A risolvere Una situazione Pericolosa Con Codamo Che probabilmente Ora subisce un colpo Da parte di Fiorentino Ma in questo caso Bella l'azione del Montepaone Ma la difesa del Borgia Certamente ha risposto In maniera ordinata E vediamo che Zavaglia Si prepara a battere All'altezza dei propri 25 metri In zona difensiva Un lancio Che vede lo stop Di Passafaro Che evita l'intervento Di Cannistran Tocca la palla Per Giuseppe Mellace Marco Doria Anticipato da Ienco Che se ne va in velocità Parte Ienco Il Millennials Del Montepaone Sulla sinistra Si appoggia su Mungo Contropiede Ripartenza Del Montepaone Tocco per Procopio Ancora uno scambio 1-2 Con Procopio Che recupera la palla E di destro Cerca il tocco Alla Mandzukic Di potenza Strappa Molti applausi Ai propri sostenitori E certamente Procopio Riesce a inserirsi Nell'area di rigore Quando siamo giunti Al 26esimo minuto Di gioco E questa è sicuramente Una delle prime azioni Pericolose Da annotare Appunto Sul tacquino Degli organi Di stampa Presenti Nell'ampia E confortevole Tribuna Del Frabotto Mannis E ancora Il numero 3 Zavaglia Che se ne va Con Codamo Che non tira mai indietro La gamba E sarà un bel Un bel combattimento Con Mellace Nessuno dei due Fa complimenti In questo caso Ha avuto la peggio Il numero 7 In maglia Granata E quindi ci sarà Una punizione In favore Appunto Del Borgia C'è mister Pisano Che sta dando indicazioni Probabilmente Sta parlando anche Con l'altro Mellace Giuseppe Quindi Darà indicazioni Anche agli avversari Ma sicuramente Mellace È un giocatore Di esperienza E quindi Conosce tutti E scambia qualche chiacchiera Nei momenti In cui la partita È ferma O il ritmo langue Sarà ora Florio Perché ha interrotto lui L'azione A toccare il pallone Con Marco Voci Che strappando applausi Alla numerosa platea presente Restituisce il pallone Al Borgia Borgia che scambia Con Benincasa Che poi rinvia Nella zona di Marco Doria Ancora uno scambio Con il numero 4 Alfieri Si inserisce Nania Che poi supera La metà campo E appoggia per Fiorentino Scambio con Mellace Di prima Zavaglia dice no Recupera ancora Pillò Elegante il controllo E ancora Mellace Che appunto Sta lottando E portando la croce Ma ha commesso Ancora un fallo Con Pillò Che batte Però con palla In movimento E indovinate un po' Cosa pensa Florio Dice no Questa punizione È tutta da rifare Quindi si riprenderà Ancora con La punizione In favore del Borgia Quando tra Una manciata di secondi Per l'esattezza Una settantina Entreremo Nella mezz'ora Del primo tempo Con il risultato Ancora A reti bianche E con Daniele Leone Che si vede Rubare il pallone Recupera ancora Di testa Con un tocco All'indietro russo Con Paparazzo Che va Con lo stile Di Guain A rubare il pallone A Benincasa Che calcia su di lui E la palla Finisce in rimessa laterale In favore Appunto Del Del Borgia E vediamo Che ora Dovrebbe essere Il Borgia stessa Effettuare la rimessa Con Pillò Che prolunga il pallone E passa Faro Che lo protegge Molto bene Lo scarica Poi su Pillò Pillò evita un avversario Controlla ancora Dribbling su Paparazzo Se ne va In velocità E questa volta Paparazzo Per il fallo commesso Si conquista Una munizione Probabilmente È stato più Un fallo Di frustrazione Perché Pillò Se ne era andato In quella posizione Pro forse Non poteva creare Molti danni Fallo comunque Di Paparazzo Giusto alla munizione Combinata Dal signor Florio Che ora Con grande attenzione Se la nota Sul suo tacquino E sarà Se non andiamo errati Errati Scarfone A effettuare Questo calcio Di punizione Con i quattro Difensori del Borgia Che rimangono Inchiodati Anzi Più che di Scarfone Si tratta Del numero 4 Alfieri Il pallone Arriva nella zona Di Conidi Con Passafaro Che cerca Di controllarla Poi comincia A fare sportellate Con Cannistrà Che alla fine Tocca per ultimo E Passafaro Lucra la cosa Più conveniente Per la sua squadra Vale a dire Una rimessa laterale Che effettuerà Ora il Borgia Ci sembra Con il numero 7 Codamo Movimento Di Mellace Di Passafaro Uno Viene Uno va incontro E uno va in profondità Mellace Punta l'avversario Evita il ritorno E l'altro Mellace Non è uscita La palla E il pallone Poi viene scodellato In una zona Dove Lombardo La fa sua Mi confermi Che non era uscita Al monitor di servizio Mi pare che si vede questo No no La sfera non era uscita E era rimasta Sempre al di là Della linea Per cui l'arbitro Ha correttamente Individuato la traiettoria Giuseppe La cifra tecnica In queste due squadre Non mi sembra Assolutamente bassa E forse Quello che è alto È anche la capacità Di dare degli schemi Importanti Dei due allenatori Sicuramente i due allenatori La recitano da padrone In questa In questa sfida Però è anche vero Che saranno le individualità A questo punto A fare la differenza in campo E il però lungo Di Giuseppe Ranieri Era dovuto A una penetrazione Di Marco Voci Che però è stata interrotta Con sicurezza Da Zavaglia L'apertura intanto Vede Nania Ancora una volta Chiudere su Passafaro E quindi possiamo dire Che non si tratta Per quanto riguarda Passafaro Di una marcatura A uomo Ma praticamente Di una gabbia Costruita su misura Per lui Da mister Pisano Con i vari giocatori Troppo in profondità Per Marco Voci Ma certamente Un signor Mungo Che si è preso la palla E poi alzando la testa Ha subito cercato Il lancio Di 30 metri E ancora Conidi Che effettua La rimessa Ha guadagnato Forse qualche metro Ma Florio Florio dice Che va bene così Paparazzo Apre ancora Per Mungo Procopio Non riesce a controllare Marco Voci Gli strappa Con decisione La palla Zavaglia E con grande fisico La mette poi In rimessa laterale 32esimo E 4 secondi 0 a 0 Montepaone in attacco Due palloni in campo E subito viene restituito Il raccattapalle Il pallone in più Per permettere a Fiorentino Di effettuare una rimessa Il più lungo possibile Ma poi Ecco Si appoggia Su Paparazzo Ancora Procopio Che entra in area Salta due avversari E poi ci pensa Scarfone A rilanciare Con Passafaro Che fa il reparto da solo Mellace Apre Non è fuori gioco Di Fiorentino Che è partito regolarmente Raccoglie il pallone Si prepara il cross La palla arriva al centro E ancora Baluardo Insormontabile Scarfone Che evita Che il pallone Possa finire Ai giocatori Del Montepaone Che non si ferma Tambureggiante Ma ragionato L'assalto Con Cannistrat Che inizia dall'altro lato Cercando come al solito Di aprire il fronte di gioco Scambia con Nania Ancora Cannistrat In questo momento Ultimo uomo Ancora Nania E si indica appunto La possibilità di servire Ienco Ienco e Mungo Non si capiscono i due Ma più che altro Si inserisce bene Zavaglia Che poi recupera il pallone L'arbitro probabilmente Vede un fallo Che è dovuto più che altro Al fisico e all'impeto Di Zavaglia E forse appunto Fischia Con un attimo di fretta Comunque Mungo Era caduto per terra E quindi ci sarà Una punizione In favore del Montepaone Con Marco Doria Che cerca di Infastidire Paparazzo Che si aggiusta un po' La posizione del pallone Si prepara col suo destro Prendendo i passi all'indietro Modello Pjanic Per mettere in mezzo Appunto Un pallone Con il solito Trittico Procopio Voci e Cannistran Che si prepara Alla ricerca Dell'incornata di testa Al centro dell'area di rigore È un segnale Forse quello Semplicemente Si è toccato il naso Paparazzo Chissà si è chiamato uno schema Parte il pallone La palla Viene ribattuta Con Mellace Che la recupera Gran tiro di Mellace Dai 40 metri Ma non riesce A inquadrare Lo specchio della porta E quindi Benincasa Può lasciare Il pallone a Zavaglia Per effettuare Anzi no Si tratta di Russo Per effettuare Il rinvio Sempre dal vertice sinistro Dell'area di rigore Con la linea 4 In questo momento Dei difensori Del Montepaone Schierata E appunto Come diceva Mimmo Cosentino Un 4-2-1-3 In questo momento Ma attenzione Perché Passafaro Recupera Il pallone A su di Seienco Lo porta spasso Sulla linea Del fondo Dell'out Il colpo di testa Di Conidi Recupera Doria Il tiro ancora Ribattuto Da Conidi In questo caso Doria Un po' ci ha battato Vale il prezzo Del biglietto Lo stop E lo scatto Di Mungo Che si infila Sul settore di competenza Cerca lo scambio Con voci Viene contrato Da un sicurissimo Scarfone Però tutto molto bello Perché Mungo Su quella fascia Dopo essere partito A mio avviso Da destra Ora si è spostato A sinistra Sta veramente Facendo cose egregie Ancora paparazzo Per Procopio Che si gira Mette in mezzo Il pallone Che diventava Velenosissimo Per Benincasa Che si è trovato Forse un passo Più avanti Ma riesce Accartocciandosi L'estremo difensore Del Borgia A recuperare E poi a rinviare Con un lancio Che cerca di favorire Mellace Di testa Per Passafaro Intervento Passafaro Alla zona Alla zona dove Accadono I fatti più importanti Sarà stavolta Giuseppe Mellace A calciare Siamo praticamente La tre quarti campo Arretrata Nella metà campo Però del Monte Paone Con cinque giocatori Del Borgia Pronti al centro Dell'area di rigore Una marcatura Mista Ci sembra Quella del Monte Paone Arriva il pallone Cannistrà Dopo un intervento Di Conidi Non riuscito Permette poi A Lombardo Di fare sua La palla E recuperarla E ancora Lombardo Che di destro Va a cercare Lo stop Di Marco Voci Che però Non riesce A controllare La sfera Che finisce In rimessa laterale Proprio tra le mani Di mister Pisano Che ora Restituisce appunto Il pallone a Codamo Che effettuerà Questa rimessa Mentre Sentiamo anche Delle musiche Da parte dei sostenitori Del Borgia Che però Sono presenti In questo momento Nel primo anello Del Frabotto Mannis Codamo Per Pilò Colpo di testa Di Fiorentino Ancora di testa Il numero due Leone E Florio Ha visto qualcosa Fischia E blocca tutto Mentre Mellace E Conidi Si scambiano Un'affettuosa pacca L'uno con l'altro Quindi hanno capito Che si trattava Di un fallo E giusta La segnalazione Di Florio Con Fiorentino Che controlla la palla Cerca Marco Voci Di là non si passa Perché c'è Codamo E ancora Pilò Che cerca di andarsene Fiorentino Gli strappa il pallone Ma a sua volta Poi lo recupera Il numero due Leone Chiuso da Mellace E una partita Agonisticamente tirata Dove tutti sono sempre Sul pallone Quindi bisogna avere Tecnica Ma anche tanta grinta Si è un match Giocato sul filo Del rasoio Perché le due squadre Si confrontano Aspremente Da un punto di vista Tecnico E quindi come prima Ti dicevo Giorgio Saranno poi Le individualità A risolvere la partita Perché per i primi 35 minuti Che abbiamo finora visto Entrambe le contendenti Hanno lottato caparbiamente E tutte e due Hanno risposto molto bene Da un punto di vista Tecnico Tattico Della difesa Semmai qualche differenza Potrebbe essere vista Sul centro Perché con il cambio Di schemi Si è svuotato un po' Il centro Il Borgia è riuscito A penetrare Un paio di volte Però Diciamo che è una gara Giocata Proprio tecnica Da parte dei due allenatori Siamo su un'interessantissima Scacchiera E ancora Mellace Che come se fosse Alla Playstation Stoppa e cerca Passafaro Colpo di testa Di Cannistrat Che si appoggia su Ienco E elegantissimo Il modo in cui Ha evitato l'avversario E poi tocca a sua volta Per Paparazzo Si ragiona Palla in cassaforte Per Mellace Che però viene anticipato Quasi dall'altro Mellace Giuseppe Quindi deve Far ripartire la squadra Con Conidi E poi Cannistrat Il Montepaone Appunto Ha un credo tattico Per cui La partenza Deve essersi veloce Ma deve cercare Di far viaggiare la palla Nella maniera Più rapida possibile E ancora Cannistrat Che intanto ha guadagnato metri Tutto il Borgia Raccolto nella propria metà campo Apertura per Nania Che ora sulla fascia sinistra Si accentra E cerca ancora Ienco Presidiato quel tratto di strada Da Marco Doria Che copre appunto La linea di passaggio E impedisce a Ienco Di recuperare il pallone E ora assisteremo Ancora una volta Tar Russo Che è un po' Il battitore libero Di questa formazione Del Borgia Che dal lato destro E l'area piccola Del portiere Di Benincasa Si trova a calciare Cercando di superare La metà campo Pilò la spizzica Mellace Tocca di tacco A sua volta Armando Mellace Si appoggia per Nania Riparte ancora Il Montepaone Con Cannistrat Ultimo uomo Scambio per Armando Mellace Che accarezza il pallone E poi lancia per Conidi Riceve il numero 5 Della squadra di casa Ancora uno scambio Per un Marco Voci Defilato sulla destra Procopio Marco Voci Cercano il dialogo Non si chiude lo scambio E Pilò cerca Di andarsene in velocità Anzi si trattava Di Daniele Leone Chiuso da Mellace Che appunto Sta facendo un po' Da frangiflutti All'altezza Del centrocampo Della squadra Di Mister Pisano Quarantesimo minuto Di gioco In questo momento Ancora 0-0 Ma certamente Una partita Che sta appassionando Il pubblico Qui al Frabotto Manis Molti dei tifosi Sono già in piedi Perché appunto Le fasi di gioco Meritano un'attenzione Particolare E ancora Codamo Che tocca per Mellace Che di testa allunga Dove c'è Passafaro Fermato da Conidi Con paparazzo Mellace Se ne va con decisione Evitando Zavaglia Cerca di aprire Verso Mungo Sovrapposizione Velocissima di Ienco Mungo si accentra Mette poi in mezzo Dove viene ancora Contrato Da un ottimo Zavaglia L'attaccante del Montepaone Riprende ancora Fiorentino Mette la palla in mezzo Procopio Rimbalzo Ed è Zavaglia Che alla fine controlla Però aspetta Un attimo di troppo Intervento Troppo deciso Di Fiorentino E in questo caso Il Montepaone Continua ad attaccare Da un lato e dall'altro Ma la difesa arcigna Del Borgia Resiste E resiste bene Sì lo dicevamo Anche prima Nell'altro intervento Il Montepaone Ha alzato il baricentro E cerca di Concludere Sottoporta Ma la difesa Del Borgia È all'altezza Della situazione Non si fa mai Trovare Impreparata Intanto è Zavaglia Che alza il pallone Nell'interesse Di Marco Doria Ancora Ienco Che lotta Come un leone Strappa la palla All'avversario Che si dispera E non torna Poi questo farà Arrabbiare l'allenatore A disturbare Il numero tre Del Montepaone Fiorentino Cerca il lancio Verso Procopio Che parte in velocità Ci sono Zavaglia E c'è Codamo È proprio Zavaglia Che decide Di mettere la palla In out E in questo caso Il raddoppio La marcatura Su Procopio È stato quanto mai utile Per la difesa Del Borgia Conidi Esce fuori Con decisione Addirittura Passafaro Che tocca per Mellace Ha di fronte a sé Cannistrà Che evita appunto Che possa continuare L'azione Il giocatore Ospite E poi Codamo Con decisione Mette la palla In rimessa laterale E Conidi Poi lancia Per Procopio Ottimo L'aggancio La palla però Rimane staccata Dal piede E finisce In rimessa laterale Mentre vediamo Maurizio Magro Che richiama Un attimo I suoi In particolare Passafaro Chiedendogli Dei movimenti Che probabilmente Avranno studiato In settimana Durante l'allenamento E ancora Codamo Lo specialista Delle rimesse laterali Che si appresta Effettuarne una lunga Che però non sortisce Effetto Anzi favorisce Mellace Che allarga Ora per Ienco Scambio con Nania Si ricomincia Ancora da Cannistra Con tutto Il Borgia Che però Si è riposizionato E vediamo In questo caso Una linea 5 più 3 Di persone Che stanno Difendendo Fiorentino Cerca di andarsi In velocità Codamo Per poco Non riesce A fermarlo Anzi Ci riesce Col fisico E forse Fiorentino Si porta La palla Troppo lontano Quando siamo Nel 42esimo Minuto Di gioco E sicuramente Il Montepone Per quanto Stia producendo Non è Come in altre Occasioni Capace Di impensierire La porta Degli avversari E ancora Il numero 5 Russo Lancio lungo Con Pilò Che controlla E cerca Passafaro Si chiude La gabbia Dei terzini Del Montepone Con Mellace Ancora Per lo scambio Che favorisce Paparazzo E Ienco Che era A fianco a lui Paparazzo Però si affida Ai piedi Di Cannistra Che apre In maniera errata Per Passafaro Recupera la palla E un 2 contro 2 Anche se sta rientrando Con Idi C'è il numero 4 Alfieri Che si apre Sulla porta A destra Alfieri Tiro E questa volta Alfieri Si divora Un gol Anche se Lombardo Gli aveva chiuso Tutto lo specchio Della porta Costringendolo Ad aprire l'angolo E questa volta Sull'errore di Cannistra Passafaro Stato molto bravo A recuperare il pallone A darlo al momento giusto Ad Alfieri Il destro Quando era il 43esimo Del primo tempo Per poco Non interrompeva La linea di Clean Sheet Che il Montepaure Sta portando avanti Sin dall'inizio Del campionato Quindi Occasione Grossissima Per il Borgia In un momento Della partita Anche importante E in questo caso Alfieri Ha chiuso Troppo L'angolo E non è riuscito A centrare la porta Quando era solo Davanti A Lombardo E ancora Mellace Che lancia verso Procopio Che fa su il pallone Lo controlla Si appoggia Ma esce Un signor Zavaglia Che va via Frazione di gioco Sicuramente Un finale Scoppiettante Affischiato Con circa 35 secondi D'anticipo Il signor Florio 0 a 0 Tra Montepaone E Borgia Un finale Interessantissimo Che prelude A un secondo tempo Che sicuramente Non sarà Da meno E noi ci prepariamo Tra pochissimo A rivederlo Ricevitoria Gerace A Montepaone Ripo Da noi puoi giocare Super Ero 8 Totogol Totocalcio Tris giornaliere E Win4Life Ogni ora Agenzia autorizzata Per le scommesse sportive Matchpoint Ricariche telefoniche Pagamento bollette Dal 1970 75 al tuo servizio Ed in attesa Della tua giocata Vincente Puoi consumare Un gustoso aperitivo Nell'annesso bar Ricevitoria Gerace Vi aspettiamo In via Padre Pio A Montepaone Lidro Su di noi Puoi scommetterci Sentite Spettatori Bentornati Qui al Frabotto Mannis Con le telecamere Di S1 TV Per il secondo tempo Del match Tra Real Montepaone E Borgia Una partita Che si è chiusa Nella prima frazione Il gioco con le reti Inviolate Zero a zero E che appunto Vede ora Rientrare in campo Le squadre Dal coordinamento Giornalistico Ci segnalano Che il Borgia Farà entrare Enrico Citraro Il numero 16 Presumibilmente Al posto di Daniele Leone Il numero 2 E quindi questa sarà La mossa tattica Di Mazzone Di Mazzone Emilio Al posto sempre Di Leone Daniele E quindi questa è la sostituzione Dicevamo che Mister Pisano Invece ha tenuto Fino all'ultimo momento I suoi giocatori dentro Ma ci sembra che sia Lo stesso 11 Che ha iniziato Appunto La gara E allora noi Credendo anche a Giuseppe Ranieri E a Mimmo Cosentino Di controllare Ora tutti i numeri Delle maglie Intanto possiamo Ridare la formazione Con il Borgia Che schiede Benincasa Mazzone Zavaglia Alfieri Russo Scarfone Codamo Giuseppe Mellace Passafaro Pilò E Marco Doria Mentre invece Il Montepaone Rimane in campo Con Lombardo Francesco Fiorentino Ienco Mellace Conidi Nania Mungo Marco Voci Procopio Cannistra E Paparazzo Quest'ultimo È stato ammonito Vediamo ora Se il signor Florio Decide di mettere Il fischietto alla bocca E di dare Il fischio iniziale Del secondo tempo Tutto è pronto Ed è Passafaro Che dà il via A questa seconda frazione Con Mazzone Che riceve direttamente Il pallone Colpisce di testa Per il numero 4 Alfieri Che scambia ancora Con Mazzone Ha di fronte a sé Ienco Che lo blocca Quindi Giuseppe Tu che conosci Tutti i giocatori Tutti i campionati Come pensi Che sia questa scelta Tattica di Mr. Magro Penso che Da un punto di vista Tattico Non è che sia cambiato Più di tanto Almeno guardando I primi minuti Non credo Sia cambiato Più di tanto E quindi Avrà voluto inserire Benzina fresca Nel serbatoio Mr. Magro Che intanto Sta facendo Riscaldare L'intera Sua panchina Si riprenderà Intanto Con un calcio Di rinvio Battuto corto Da Lombardo Per Cannistra Che poi Si appoggia Su Nania Che parte in velocità Alza la testa E cerca Procopio Il tocco Favorisce Per il ritorno Di Pilò Colpo di tacco Per Zavaglia Apertura Per Passafaro Passafaro Arretrato Per risucchiare Gli avversari Punta un avversario Ma non passa Su Mellace Che quindi Gli impedisce La penetrazione profonda E si deve Accontentare Di un passaggio Laterale Per Alfieri Che ha di fronte a sé Tre giocatori Deciso L'intervento Di Ienco E deciso Anche il signor Florio Ad ammonire Del secondo giocatore Del Monte Paone Appunto Ammonito Dal signor Florio Come si suol dire In campo Ma come al primo fallo Però questo era deciso Forse Florio Ha pensato Di dare subito Un segnale Giuseppe Sì è stato Un fallo tecnico Però chiaramente L'arbitro Ha anche fatto bene Ad ammonire subito Al calciatore Anche perché Il match Eccessivamente tecnico Potrebbe anche Decollare in una maniera Diversa Per cui Condividiamo La decisione Assunta dall'arbitro E sarà il destro Di Pilò Mentre i passi Felpati di Florio Arrivano a 9 metri E 20 Come possiamo vedere Dal monitor di servizio Dicevamo che Pilò chiama lo schema Quello con la mano Destra alta E si prepara appunto A calciare Con un'aria Intassata Da giocatori Palla Parabola importante Colpo di testa Tocca Mellace Secondo i giocatori Del Borgia C'era un fallo Di mano L'arbitro Fa proseguire E intanto Marco Doria Florio Perché non è sicuro Se si possa considerare Passaggio all'indietro O meno Riparte ancora Pilò che raccoglie La palla In una posizione Molto arretrata Evita il ritorno Di Marco Voci Se ne va in velocità Allarga per L'altro Marco Si tratta di Doria Che parte Avendo di fronte A sé Mellace Si ferma Tocca per Giuseppe Mellace Che a questo punto Alza la testa Aspetta forse Un attimo di troppo Facendo arrabbiare I suoi tifosi Tocca ad Alfieri Che poi da una posizione Un po' difficile Tenta il tiro Bella l'intenzione Interno collo destro Ma il pallone Finisce alto Sulla traversa E la porta di Lombardo Riparte ancora Anania Che dialoga Con Cannistra Mentre le due punte Mellace E Passafaro Cercano di dare fastidio A questa impostazione Del gioco Ancora una volta Lombardo Per poco Non favorisce Il tocco di Passafaro Ma la palla Finisce in rimessa laterale Lì dove si tratta Di Conidi Che effettua La rimessa In favore di Fiorentino Strattonato Da Codamo E qui appunto Possiamo interpretare Il metro di giudizio Di Florio Che non ammonisce Per falli tattici O per parole Ammonisce Per interventi Che possano essere pericolosi In questo caso Ci trova anche D'accordo Perché forse È quello che noi chiediamo Da sempre a un arbitro Esce fuori Con decisione Zavaglia Che dalla distinta Ci dicono Si è anche un 98 Quindi un under Il pallone Finisce in out E toccherà a Fiorentino Effettuare Questa rimessa Con Mellace Che non lucca Anche quando si allena Semplicemente Riesce a trovare subito Il passaggio giusto Per Fiorentino Rimessa lunga Alla Chiellini Del numero 2 Del Monte Paone Movimento in area di rigore Riceve Procopio Che stoppa di petto Ha di fronte a sé In una biblioteca Poi chiede la rimessa Che riesce a recuperare Lancio illuminante Di paparazzo Che cambia ancora L'uomo del Var Lo riconosciamo E lo riconosciamo Dalle scarpette Comunque eleganti Mentre Vincenzo Doria Ha delle scarpette Ugualmente belle Tutte in azzurro Quindi quando siamo All'ottavo minuto Di gioco Esce Codamo Ed entra appunto Doria Applaudito Dal pubblico Del Borgia Probabilmente Un problema fisico Per questo giocatore Che comunque Sulla fascia Si è fatto Valere moltissimo E quindi Entra un altro Giocatore Di giovane età Ma nel calcio Come nella vita Non conta tanto l'età Contra la bravura E quindi Se sai Fai Riparte ancora Il Borgia La palla arriva Nella zona di Mellace Stop di petto Elegante Si appoggia Per l'inserimento Di Ienco Che mette l'acceleratore Con la turbina Cerca di evitare Un avversario Si tratta di Pilò Ma il passaggio Finisce tra i piedi Di Scarfone Che rilancia Verso Passafaro E ancora una volta Conidi Con Mellace Che controlla Evita il ritorno Di Marco Doria Si gira E di sinistro Cerca di imbeccare Mungo Lancio preciso Bungo si impegna Mette in mezzo Un ottimo pallone Con Zavaglia Che fa buona guardia E mette in calcio d'angolo Anche in questo caso Ottimo l'intervento di Zavaglia Bella l'azione del Montepaone Arrembante E calcio d'angolo Con il consueto schema Che vedrà Mellace e Paparazzi Appropinquarsi All'altezza della bandierina Sull'estremità del vertice Alla destra Della zona d'attacco Del Montepaone Vediamo cosa preparano Il tocco è per Paparazzi Ancora per Mellace E' una posizione Dove è assegnato Col Giri Falco In questo caso Il cross Cerca di favorire Conidi Che non ci arriva E noi Sfruttando anche Delle capacità atletiche Non indifferenti Andiamo proprio A disturbare I nostri amici del Borgia Giocatore del Borgia O delle giovanili Delle giovanili Nome e ruolo Emanuele Mazza Centrocampista E i tuoi compagni Mister Magro Gli sta torchiando Ma i risultati si vedono Eh sì Alla fine stiamo facendo Un bel campionato Come possiamo vedere Anche nelle partite In cui andiamo in difficoltà Facciamo sempre una bella partita Una bella prestazione E allora In bocca al lupo Anche ai giovani del Borgia Che tra qualche anno Vogliamo vedere qui in campo Eh sì Speriamo È un sogno In bocca al lupo Noi ce ne torniamo Nella nostra tribuna stampa Ormai il plurale Mai è stato I sed obbligo Giuseppe Ci sentiamo importanti Torniamo Torniamo Siamo tutti insieme A gustare questa bellissima Gara di campionato Che si sta preannunciando Veramente intensa E combattuta Per cui il torniamo Mi fa piacere Sentirlo Ecco che si prepara Ora Benincasa Che ha ricevuto Benincasa Che ha ricevuto la palla E di destro Che cerca di superare Il centro campo Ma più che altro Fa impennare la sfera Colpo di testa di Ienco Probabilmente Giusta la segnalazione In questo caso Dell'arbitro Mungo si è trovato In fuorigioco Di un metro O poco più E quindi si riprenderà Con una punizione Affidata Se non andiamo errati A Zavaglia Anche lui Con scarpette multicolore Si prepara Zavaglia di destro Tutto il Borgia Si schiera Nella zona del centro campo Del Monte Paone E ancora Ienco Che colpisce di testa Dove però Stop in maniera elegante Il numero 11 Doria Ruba la palla Ienco Alza la testa Vede il movimento Dei compagni In buca Verso Mungo Aspetta forse Un attimo in più E quando si perde Quel tempo di gioco Che poi fa scattare La trappola dell'offside E si è chiaro Poi loro sono anche bravi A porla in essere Per cui Quell'attimo in più Di far la differenza Ed ecco che poi L'arbitro è chiamato A fischiare l'offside Undicesimo Del secondo tempo E qui avviene Un fatto importante Torna in campo Domenico Voci Che si era infortunato Nella scorsa stagione Vediamo un attimo Chiediamo l'ausilio Anche a Mimmo Cosentino E' uscito all'undicesimo Quale giocatore Mimmo? Scarfone Nania Esce Nania Quando siamo all'undicesimo Del secondo tempo Ed è entrato Domenico Domenico Voci Attenzione che Ben in casa Rinvia il pallone Quindi un bentornato Anche a Domenico Voci Che torna appunto A dare il suo contributo Alla squadra del Montepone Lancio profondo Per Mellace Ha di fronte a Seienco Che riesce a contrarlo Forse commette fallo Poi si spintonano i due L'arbitro non fischia il fallo Ma assegna la rimessa In favore del Borgia Zona d'attacco Con Emilio Mazzone Che si prepara appunto A scambiare Riceve la palla La mette in mezzo Parabola arcuata Colpo di testa E Domenico Voci Marco Voci Ancora di testa E la palla finisce ancora Nella zona Del numero 14 Neu entrato Doria Il pallone però Vede Fiorentino Recuperarlo per un attimo Si combatte con la baionetta Fra i denti Apertura per Mazzone Controlla la palla Non si passa Perché c'è Ienco Riparte ancora Mungo Che evita Anche l'avversario Si trattava di Alfieri Parte in velocità Ritorna Ritorna a Doria E secondo la filosofia Applicata sin qui Ammunizione giusta Combinata da Giuseppe Florio L'arbitro di Locri Sul fallo Che appunto è stato Un fallo in cui è stato Travolto Mungo Dal ritorno di Marco Doria Dicevamo nell'intervallo Giuseppe Che sarà molto importante La condizione fisica In tutti i 90 minuti Si perché giocare comunque Su questi ritmi Dopo un gran primo tempo Allora vuol dire Che devi essere Veramente preparato Atleticamente Per poter sorreggere E superare l'altra squadra Nel corso del secondo Perché anche questo Secondo tempo Si sta giocando Con continui stravolgimenti Di fronte Che impegnano le gambe Dei calciatori Paparazzo Arriva la palla al centro Toccata di testa Probabilmente da Canistrà E sarà appunto Calcio Calcio di fondo Vediamo che Benincasa Subito chiede il pallone Segno che il Borgia È qui per giocarsi La partita Puntando Puntando appunto Al bottino pieno E quindi Subito rimette in gioco La situazione con Russo Colpo di testa Da parte di Fiorentino Che sale al piano di sopra Per colpire questa palla Che scivola poi Rimessa laterale Ancora Fiorentino Che effettuerà questa rimessa Con Voci Si tratta di Domenico Che la controlla La sfera Si gira di destro Cerca di imbeccare L'altro Marco Voci Ha di fronte a sé Scarfone Mette in mezzo Chiude con grande sicurezza Russo Sull'intervento di Procopio E quindi la palla Finisce in out In mezzo all'erba E viene immediatamente Recuperata Dai raccattapalle Sarà ancora Fiorentino Che si prepara A una rimessa Presumibilmente Abbastanza lunga Perché prende Una certa rincorsa Parte Fiorentino Per Procopio Che controlla di tacco Di fronte a sé Zavaglia Fiorentino Marcato da Doria Il pallone Arriva lo stesso Con sicurezza Scarfone E senza fronzoli Mette in calcio d'angolo Con un Montepaone Che appunto Pungolato Dalla forza E dall'intraprendenza Del Borgia Sta rispondendo Da per suo Cercando di chiudere Gli ospiti Nella propria metà campo Ancora Paparazzo Con Mellace Per Domenico Voci Apertura Per Fiorentino Ma questa volta Era fuori gioco Anche se era bella L'idea dello scambio Sì sì L'idea bella Però avrebbe potuto Anche appoggiarla Diversamente Anche a sinistra Consentendo un maggiore Sviluppo dell'azione Però è fuori Da parecchio tempo Domenico Voci E in campo Dai primi minuti Per cui dobbiamo Consentirgli anche Quest'errore E intanto Il tempo vola Perché siamo al quindicesimo Del secondo tempo Il risultato È sempre di 0 a 0 Ricordiamo L'occasionissima Per il Borgia Nel finale Del primo tempo Con i giocatori ospiti Che rinviano Dove appunto Mellace e Mellace Si incontrano E poi alla fine Alla meglio L'Armando Del Montepaone Parte ancora Ienco Che è tampinato Da Passafaro Scambia con Mungo Mungo e Ienco Mungo si accentra Mette in mezzo Verso Marco Voci Colpo di testa Di Vincenzo Doria Che per poco Non favorisce L'intervento Di Marco Voci Che cercava di insinuarsi Tra il terzino E il portiere E la palla Finisce in calcio d'angolo Quarto corner Per il Montepaone Il Borgia Che continua Con la difesa Ordinata Che non rinuncia A nessuna possibilità D'attacco Il Montepaone Che batterà ancora Probabilmente Con lo scambio Con Mellace Fiorentino Gli affida La palla Mellace La controlla Tocca ancora Per Fiorentino Entra nell'aria Mette in mezzo Si chiude La difesa Del Borgia Che chiedeva appunto Che la palla Fosse uscita Mungo Con Zavaglia Che tocca Per Passafaro Sicuro L'intervento Di Ienco E ancora Zavaglia Che cerca Lo scatto Ma con grande Freddezza Lombardo Cerca il passaggio Per Ienco Poi Mellace Alza un campanile Che finisce Nella zona Di Passafaro E Mellace Va a recuperare La palla Quando però Quest'ultima Ha già superato La linea Che delimita L'estremità Del campo E quindi Si riprenderà Con una rimessa Laterale Da notare Anche lo scatto Non si trattava Di Zavaglia Ma era Alfieri Che ci ha creduto Fino alla fine E ha puntato Appunto Lombardo Che però L'ho anticipato Mellace Spizzica la palla Nella zona Di Fiorentino Che allarga Per Marco Voci Che alza la testa Vede Salvatore Procopio Lo serve Ha di fronte a sé Scarfone Che colpisce Facendo impennare La palla Ancora la palla Finisce Dove c'è Marco Voci Che arriva Velocissimo Tocco E alla fine Sull'intervento Di Mungo E decisivo Un difensore Del Si tratta Del numero 5 Russo Che praticamente Ha un passo Dalla linea bianca Salva la rete Quando Mungo Stava per effettuare Il tappino E quando siamo Al diciassettesimo minuto Questa azione Velocissima Il Monte Paone Ha visto il Borgia Difendersi Fin a un metro Appunto Dall'area Dalla linea bianca Che delimita la porta Intanto viene Segnalata Una punizione Per intervento Di Mellace Giuseppe Su Armando Probabilmente A gamba tesa E quindi Attenzione Perché dai 25 27 metri Ci suggerisce Il nostro monitor Di servizio Sarà probabilmente Mellace A calciare O forse Ancora di più Paparazzo Mentre c'è anche Cannistrà Che si prepara Eventualmente Per una soluzione Per una soluzione Di forza Dialogano I due Il signor Florio Va a misurare Con precisione La distanza Quella consueta Mentre sono Quattro i giocatori I lunghi Più Domenico Voci Che si preparano Che si preparano Al centro Dell'area di rigore Per un'eventuale Deviazione Mellace Si è allontanato Quindi A calciare Saranno Cannistrà E Paparazzo Si allontana Anche Cannistrà E Paparazzo Appunto All'incarico Con un mungo Che particolarmente Solo In questo momento Marcato Soltanto dall'arbitro Si prepara Paparazzo Mette in mezzo Il pallone Colpo di testa Di Conidi Che a botta sicura Mette la palla fuori E pareggia L'occasionissima Di Alfieri Del primo tempo Perché Anche qui Conidi Era più facile Che la mettesse dentro Con un colpo di testa Su un pallone Perfetto Dipinto nel cielo Da Paparazzo Con Conidi Che ha trovato Il tempo Il momento Giusto Per incornare Ma poi non ha centrato Il rettangolo Della porta Difesa Da Benincasa Ancora 0-0 Diciannovesimo minuto Di gioco Borgia Che con Mellace Mette la palla in mezzo Ma Ienco Fa buona guardia Evitando che la sfera Finisca A Bomber Passafaro Che però Riesce a ribattere La respinta Di Cannistrà E si riprenderà Con una rimessa Laterale E noi andiamo Per la seconda volta Da Maurizio Vatrano A chiedere di situazione Ossigeno Secondo te Potranno continuare A correre così? Sicuramente Intravedo Un cambiamento Rispetto al primo tempo Le scuole Si stanno sbilanciando E vedo Il baricentro Del Montepaone Leggermente avanti Quindi Secondo me Il gol può arrivare Da un momento all'altro Ma anche Anche da parte Del Montepaone Grazie a Maurizio Del Borgia Diceva anche a Maurizio Vatrano Ringraziamo La palla intanto Finisce a Ienco Che la controlla All'altezza della bandierina Ha di fronte a sé L'intervento Però deciso Ottimo Di Mazzone Che mette la palla In rimessa laterale Ci affacciamo Al ventesimo minuto Del secondo tempo Reti bianche 0 a 0 Tra Montepaone E Borgia Con il Montepaone In zona d'attacco Che mette in campo Una rimessa Con Procopio Che fa viaggiare La palla Al centro Dell'area di rigore Colpo di petto Di Conidi Mellace Tenta la soluzione Di sorpresa Ma Fa buona guardia Benincasa Che blocca la palla Avanza E fa risalire E rifiatare Tutta la sua squadra Stiamo rifiatando Anche noi Giuseppe Eh sì Stiamo rifiatando Anche noi Perché Abbiamo visto Continui stravolgimenti Di fronte Comunque il Montepaone Sta appungendo Ancora di più Ma il Borgia Si difende bene E si rilancia Davvero con intensità Il match È di una parità Proprio piena Un perfetto equilibrio In campo E il Montepaone Sta cercando Il pertugio giusto Per guadagnare I tre punti fatidici Ma finora La difesa del Borgia È stata sempre Sempre attenta Intanto Alfieri Commette fallo Su Procopio Che rimane a terra Florio Sufficientemente vicino Appunto interviene E fischia E ancora c'è la possibilità Per il Montepaone Di riversarsi Nella metà campo Del Borgia Che continua A difendersi Con ordine Immaginiamo Che il caldo Di questa Tarda estate autunnale Qui a Montepaone Possa comunque Dare fastidio Battono di sorpresa Domenico Voci Tenta il tiro E notiamo E notiamo Che addirittura Alfieri Si stava ancora Rinfrescando Con l'acqua Quando il Montepaone Ha riniziato L'azione Probabilmente Non hanno chiesto La distanza L'arbitro Si è allontanato Hanno fatto così Anche i giocatori Del Borgia Ed ecco perché Ripresa L'azione A battere Ora ci pensa Russo La palla arriva Nella zona Presidiata Da Domenico Voci Che salta In maniera scomposta Commettendo fallo Su Marco Doria Si riprende ancora Con il Borgia Che chiaramente Non ha intenzione Né necessità Di accelerare I ritmi E si affida Ora a Pilò Per battere Questa punizione Con Mazzone Che si è liberato E che riceve Appunto la palla Ottimo lo stop Elegante Recupera il pallone Evita un avversario Tocca indietro Ma viene chiuso Dalla marcatura Triplicata Con Mungo Che evita anche Un fallo Attenzione Alfieri è stato Molto deciso Nell'intervento E in questo caso Florio punisce L'intenzione cattiva Più che gli effetti Negativi Dell'intervento Ma Mungo Se ne stava andando In velocità E quindi Non ci sentiamo Di contraddire La giacchetta nera Che sta Continuando a notare Finora ha fatto Ha notato Sul suo blocchetto Quattro munizioni Ienco e Paparazzo Per il Montepaone Alfieri e Marco Doria Per il Borgia Partita comunque Sportiva Cavalleresca Non cattiva Ancora un lancio Con Fiorentino Che parte Marco Voci Che aveva Fintato Di disinteressarsi Dell'azione E poi ripartito Con Benincasa Che ancora si arrabbia Ma il rilancio Ma il rilancio Non è dei migliori Colpo di testa Mancato da due giocatori Ancora Ienco Che sta giocando Alla grande Pilò che difende Un pallone Non passa E fischia Florio Giuseppe Si può contestare Qualche decisione E l'arbitro Ma è sempre lì A un metro Dalla palla Si era vicino Comunque finora Ha avuto davvero Un arbitraggio Equilibrato Nulla da escepire Anche se in questo caso Si poteva anche continuare Ventitresimo minuto Riparte ancora Il Borgia Con Pilò A cercare Il numero tre Zavaglia Che riceve il pallone Ha di fronte a Sefiorentino Cerca di indietreggia Si appoggia Su Vincenzo Doria Che controlla La sfera E poi calcia lungo In direzione Mazzone Colpo di testa Di Ienco La palla Si impenna Mellace Che combatte Poi Domenico Vosci Che vede Pilò Rubargli il pallone Ancora Pilò Che cerca di partire In progressione Ha di fronte a Sefi Vari giocatori Riceve anche un colpo E ci accorgiamo Che i tifosi del Borgia Non sono soltanto Nel loro settore Ma sono un po' dappertutto Perché il fallo su Pilò Suscita le ire di più persone Sicuramente Non un fallo cattivo Che comunque Non è segnalato come tale Dal signor Florio Vediamo che entra intanto Il massaggiatore Anche se non è stato Chiamato appunto Il massaggiatore E Florio Che chiede appunto Di uscire Laddove eventualmente Si è stato Questo scontro duro E noi Approfittiamo Di Mimmo Cosentino Che tipo di scontro È stato Mimmo Fino a questo momento Il risultato è giusto Tutte e due Stanno giocando A viso aperto Tutte e due Stanno cercando Il risultato Ma io penso Che fino alla fine Potrà sbloccarsi Anche perché Anche perché noi Abbiamo annotato A lettere di fuoco Il pronostico Di Mimmo Cosentino Vince chi segna E ritengo che in questo momento Ancora possa valere Questo attento pronostico Del nostro amico Di tribuna stampa Parte ancora Ienco Rimessa lunga A cercare Procopio Colpo di testa Di Alfieri E poi Mellace Che rimette verso Passafaro Che tocca con eleganza Ha di fronte a sé Tre avversari Cerca di andarsene In velocità Ma c'è un Ienco Veramente deciso Non sembra un Millennials Questo giocatore Porta poi la palla In calcio d'angolo E si tratta Del primo calcio d'angolo Da quanto abbiamo annotato Per il Borgia Che fa scendere Anche Scarfone Scendono i lunghi Rimangono a difesa Della linea di centrocampo Mazzone E Doria Mentre sarà appunto Mellace A calciare Dalla bandierina Si tratta Dalla bandierina Alla sinistra E la porta difesa Da Lombardo Sono sei giocatori Del Borgia Arriva la parabola Colpo di testa E la palla Finisce sul fondo Il colpo di testa E' stato probabilmente Proprio di Scarfone Che si era elevato Per poter riuscire A impattare la palla Cannistrà Lombardo Scambio tra i due giocatori Ora è Lombardo Che riceve la palla Con Passafaro Che cerca di chiudere Le linee di passaggio E il lancio è precisissimo Per lo stop Ripetto di Domenico Voci Per Marco Voci Ma intervento deciso Di Vincenzo Doria E l'arbitro però Ravvisa Una gamba tesa E quindi interrompe Il gioco per permettere Al Montepaone Di battere una punizione Che sarà calciata Presumibilmente Dal numero 5 Conidi Che si prepara Appunto ad appoggiarla Per Mellace Palla a Mellace Che cerca Procopio Si chiudono le maglie Tra Russo e Scarfone Della difesa del Borgia Ancora Mellace Che apre Subito Perienco Di prima intenzione Ancora Scarfone Che rilancia Non raccoglie Doria Tambureggiante Marco Voci Copre il pallone Esce deciso Ben in casa La palla si impenna E' un momento Di grande confusione Con il Montepaone Che preme l'acceleratore E' ancora Fiorentino Ma c'è Procopio Per terra Proprio al centro Della lunetta Che delimita L'area di rigore E la palla Viene rimessa In out Per permettere I soccorsi Al numero 9 Al Mandzukic Del Montepaone Però un Montepaone Che non riesce A scardinare La difesa Il bunker del Borgia Manca la conclusione In zona ficcante Sono gli ultimi 20 metri Quelli fatidici Nel calcio Dove comunque La difesa del Borgia Si fa rispettare E il Montepaone In quegli ultimi 20 metri Non riesce Ad essere veramente incisivo Come dovrebbe Si disseta Cannistrà Anche noi Qui in Tribuna Stampa Stiamo perdendo Molti liquidi E cercheremo Di sopperire Appunto Con delle bevande E dei sali Che ci possono far riprendere Intanto La rimessa E' in favore Del Borgia Che sicuramente Restituirà la sfera Con il numero 3 Zavaglia E il numero 9 Passafaro Alla squadra Del Montepaone Mentre vediamo L'Eylander Il Mazzuchic E il Montepaone Procopio Che si appropinca A rientrare Appunto In campo Così come Da volontà Del signor Florio E subito Rientra Procopio Di nuovo 11 contro 11 Paparazzo Cannistrà Con Alfieri Che cerca Di dare fastidio A tutti Correndo In maniera indiavolata E ancora Cannistrà Che recupera Il tocco Per Mungo L'intervento Di testo Di Mazzone E poi Ienco Per Mungo Mungo Se ne va Con una Veronica Ma si porta Anche la palla In out Anzi Non era uscita Secondo Florio E per poco Procopio Non si va a riprendere Il pallone Il lancio Vede scattare Zavaglia Ma anche Fiorentino Che copre appunto La palla E fa sì che possa Poi effettuare La rimessa laterale Con Idi 17 minuti Al termine 0 a 0 Alfrabotto Mannis Tra Montepaone E Borgia Una partita Che comunque Anche senza gol Ci sta tenendo tutti In maniera entusiastica Col fiato sospeso Ancora Ienco Che si accentra Alza la testa La mette in mezzo Domenico Voci E Marco Voci Sul tocco Di Domenico Voci E Marco Voci Che la mette dentro E il gol Al ventottesimo minuto Con Marco Voci Che chiede appunto Una dedica speciale Fa vedere la maglietta Speriamo la porti A favore di camera E esplode Il frabotto Mannis Con al ventottesimo Una Una perla Una perla Di Domenico Voci Sul lancio preciso Di Ienco Che ha messo Praticamente Il bomber Marco Voci Da solo Davanti Alla porta E mi sa Però che Marco Voci Ha lasciato la maglietta In una zona del campo Tale che gli consentirà Poi di Ricevere Un'ammunizione E entusiasmo Alle stelle Al frabotto Mannis Con grandi proteste Da parte del Borgia Però con il Montepaone Che quando siamo giunti Alla mezz'ora Del secondo tempo Ha sbloccato Il risultato Con il gol Del bomber Marco Voci Al ventottesimo minuto E vediamo che Marco Voci Va a recuperare La maglietta E il signor Florio E il signor Florio Si prepara Probabilmente Ad ammonirlo Cartellino giallo Nella tasca destra Già in mano Al signor Florio E quindi Ammunizione Per Marco Voci Riepiloghiamo Un attimo L'iter dell'azione C'è stato Ienco Che si è accentrato All'altezza Dei 25 metri Ha messo in mezzo Un pallone Molto profondo Domenico Voci Ha colpito di testa Mettendo Marco Voci Solo davanti Alla porta A meno di 30 centimetri Dalla linea bianca Montepaone 1 Borgia 0 Si riapre ora La partita Con il Borgia Che certamente Non ci starà A rimanere Appunto Appunto Sotto Sotto di un gol Recupera intanto Alfieri Che è il vero Combattente Di questa squadra Marco Voci Stoppa il pallone Si tratta Si tratta di ragionare Tocco per Domenico Voci E ancora la palla Finisce la zona Di Vincenzo Doria Che se ne va Molto bene In velocità Ma c'è Conidi Che lo contra Facendo entusiasmare Il pubblico Dei tifossi Del Montepaone E ancora la palla Finisce in alto Ci prepariamo A un ultimo quarto d'ora Veramente di fuoco Con il Borgia Che cercherà Di riportare in parità Le sorti della partita E il Montepaone Che adesso Riacquisisce anche Forza psicologica Dopo il gol Di Marco Voci Che ha sbloccato Appunto l'azione Parte ancora Ienco Che tocca Per Procopio Che copre il pallone Appoggia Per Marco Voci E' uscita Alla grande Di Benincasa Che coscegliendo I tempi giusti Ora che siamo Al trentunesimo Anticipa Da vero portiere L'intervento Di Marco Voci E ancora Passafaro Che la mette in mezzo Nella zona presidiata Da Conidi Colpo di testa Per Mungo Non si fermano più I 22 atleti in campo Mungo cerca Di andarsene in velocità Lo contra Doria Si tratta appunto Di Marco Doria Ma Procopio Gli ruba il pallone Marco Voci Chiede palla La scambia ancora Con Procopio Che ha di fronte a sé Scarfone Che non permette Al centroavanti Del Montepaone Di penetrare Anche se lo vediamo Affaticato Scarfone Probabilmente Il lavoro Che sta compiendo Sta gravando Anche sui muscoli Del giocatore Del Del Boccia Ancora Procopio Che scambia Con Ienco Ha di fronte a sé Alfieri Cerca di evitarlo Ma non si passa E la palla finisce In rimessa laterale Ancora contestazioni Anche su questa decisione Del signor Florio Con Alfieri Che ha toccato Per ultimo Il pallone E la rimessa Che è affidata A Ienco Tocco per Procopio La palla Questa volta Sbatte sul fianco Del centroavanti E finisce In rimessa Dal fondo Con il numero 5 Russo Che si prepara Appunto A calciare Il Borgia Non ci sta Vediamo ora Quale sostituzione Avviene Ci sembra Che a uscire Sia Mellace Ed entra Il numero 15 Che sul tabellino Che c'è stato Sulla distinta Che c'è stata Consegnata Dovrebbe essere Citraro Però ecco Poi eventualmente Chiede E' uscito Il numero 8 Mellace Quando siamo Al 32esimo Ed è entrato Appunto Citraro 32esimo Del secondo tempo E quindi Questa sostituzione Attenzione Il pallone Arriva nella zona Di Benincas Che riesce Comunque A intervenire E a bloccare Il pallone Dicevamo Di questo Borgia Che certamente Non ci sta E Dovrebbe essere Appunto Se la distinta Consegnateci All'inizio La partita È giusta Addirittura Un giocatore Del 2002 Cercheremo Poi di Approfondire E intanto Ancora Pilò Che con eleganza Gestisce Il pallone Si accentra E tenta La fucilata Grande personalità Di questo giocatore Però la palla Va a un metro Sopra la trasversale Della porta difesa Da Lombardo E quindi Pilò Sicuramente Ha cercato La soluzione Personale Mentre Mister Pisano Manda a riscaldarsi Tutta la panchina Nella zona Alle spalle Appunto Della porta Difesa Da Lombardo E proprio Quest'ultimo Che scambia Con Cannistrà Con Doria Che cerca Di andare A disturbare L'impostazione Dell'azione E ancora Ienco Ienco Che si affida A Mellace Raddoppio Della marcatura Ma Mellace Esce bene Appoggiando Per Conidi Conidi Per Fiorentino A questo punto Il Montepaone Sta trovando Grande fiducia Nei propri mezzi Fiorentino Voci E si torna Poi Da Lombardo Con Passafaro Che cerca I raggi fastidio E Lombardo Che apre Verso Ienco Ha di fronte A sé Mazzone Il controllo Ancora Favorisce Ienco Lancio Lungo E questa volta C'era il fuorigioco Probabilmente Di entrambi I voci Sì 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 Tutti e due Erano tutti e due Ampiamente In fuorigioco La decisione è corretta E tu sei avvantaggiato Anche perché Hai il monitor di servizio E quindi Hai possibilità Di non sbagliare mai Sicuramente È un monitor davanti Per cui Ecco che Si prepara Zavaglia A battere in profondità Cercando Passafaro Colpo di testa Ad anticiparlo Di Conidi La palla finisce a voci Appoggia per Procopio Che difende il pallone Viene anticipato Probabilmente Con un fallo E poi Mazzone Che anticipa L'avversario Due giocatori Del Monte Paone Per terra Si tratta di Procopio E si tratta di Mungo E qui un applauso Ai giocatori del Borgia Che quando sono In pieno forcing Comunque Si fermano Per permettere Ai giocatori Dell'altra squadra Di essere appunto Aiutati Nel caso si fossero Fatti male E quindi Giusta anche Questa sospensione E grande fair play Tra i giocatori Che comunque Pur combattendo Con decisione Non dimenticano Appunto Di essere degli sportivi Ecco che sarà Fiorentino Effettuare la rimessa E dovrebbe essere Restituita la palla Al Borgia Con Marco Vosci Che la appoggia Benincasa Che subito la tocca Per Russo Riparte appunto Il Borgia Con Russo Che alza la testa E calcia in profondità Colpo di testa Di Mellace Il pallone Finisce a Mungo Che la appoggia Però laddove c'è Mazzone Che evita un avversario Ruba palla Che non riesce A trovare l'attimo Per servire Marco Vosci E con Mungo Che ancora recupera Si appoggia Su Mellace Che alza la testa E allarga Per Conidi Trentaseiesimo minuto Montepone In vantaggio Per 1 a 0 Rete al ventottesimo Di Marco Vosci Conidi Fiorentino Ancora Conidi Mellace Che chiede Di appoggiarla A Lombardo Ma Conidi Preferisce Fiorentino Lancio lungo In profondità Per Procopio Che lo stop Appoggia per Marco Vosci Destro al volo Di Marco Vosci Applausi Per il giocatore Ma la palla Finisce Un paio di metri Oltre il palo Della porta Difesa Da Benincasa E sarà ancora Russo Perché il Borgia Non ci sta E sta suonando La carica A effettuare Appunto il rinvio Con Mister Magro Che esprone i suoi A mantenere la calma E a giocare Come sanno E Domenico Vosci Che ruba un pallone A Zavaglia Scambia con Fiorentino Parte velocissimo Fiorentino Sulla fascia Di fronte a sé Zavaglia Che è un vero muro Copre Anche ricevendo un colpo Perché il pallone Gli sbatte proprio All'altezza delle costole Però questo Zavaglia Continua ad essere Uno dei giocatori Che stanno dando Il meglio di se stessi In campo Con Il signor Florio Appunto Che probabilmente Chiamerà l'intervento Dei sanitari E vediamo che Mister Magro Sta facendo riscaldare Orlanducci Un altro Un altro Fuoricuota Che è ai margini Del campo E vediamo al posto Di chi entrerà Mentre Zavaglia Si sta riprendendo Quindi non serve neanche L'intervento Dei sanitari Probabilmente Non erano le costole Era un posto Leggermente più doloroso Dove ha ricevuto La pallonata Onore a Zavaglia Che comunque è un atleta Arriva Paparazzo Mette in mezzo Il pallone Deviato da Vincenzo Doria Quinto calcio d'angolo In favore In favore Del Montepaone Con Paparazzo E Mellace Che si preparano Al consueto schema Con lo scambio Per quanto riguarda Il calcio d'angolo E Mellace Si tratta di Armando Che scambia con Paparazzo Movimento di Fiorentino Riceve la palla Deliziosa questa azione Però non trova nessuno Giocano occhi chiusi E in questo caso Mancava una posizione Nello schema Costruito Con Domenico Voci Che impedisce La ripartenza Delle Borgia E quindi vediamo ora La sostituzione Quando siamo Al trentottesimo minuto Entra Orlanducci Vediamo Chi sarà ad uscire Mister Magro Richiama addirittura Zavaglia Che non ha ancora Assorbito perfettamente Il colpo ricevuto In precedenza E quindi Esce al trentottesimo Zavaglia Ed entra Orlanducci Per quanto riguarda Il Borgia Tra gli applausi Ottima la prestazione Del giocatore Che è anche fuori quota Del Borgia E quando siamo Giunti al trentottesimo Debo come da Adempimenti richiesti Interrogare Giuseppe Ranieri Per indicarci I due Per ogni squadra Migliori giocatori In campo In questa partita Davvero difficile Oggi individuare Due calciatori Per squadra Che si sono distinti Ma dovendo per forza Dirlo Io posso dire Che a parere mio Hanno fatto una grande gara Sia Passafaro Che Pilò Per il Borgia Marco Voci E E Mellace Per il Monte Paone E allora Per Giuseppe Ranieri Passafaro E Pilò Marco Voci E Mellace Per il Monte Paone Sapete che Se volete confermare Questa scelta Dovete premere Il tasto fucsia Del vostro telecomando Intanto riprende Ancora Vincenzo Doria Vincenzo Doria Che effettua Appunto La rimessa Con le mani Guadagnando qualche metro Favorendo poi Un compagno Ma il colpo di testa Diventa preda Di Conidi E ancora Marco Doria Che viene saltato Da Fiorentino Che poi Serve Domenico Voci Ma la palla Finisce poi A Scarfone Che si appoggia Direttamente Su Benincasa Che rinvia Cercando di superare La metà a campo Orlanducci Di testa Ma chiude con decisione Conidi Nella zona di Paparazzo Che scambia Con un ottimo Ienco Che poi cerca Di imbeccare Mungo Ma è Mazzone Che recupera Ancora per Orlanducci E Ienco È scatenato Sulla fascia Veramente Sta facendo Un partitone Per quanto Mi riguarda Il numero 3 Il Millennials Del Montepaone E ancora La palla è rimessa Laterale Ma attenzione Perché il Borgia Non ci sta C'è ancora tempo Per rimontare E toccherà Al numero 16 Mazzone A effettuare Appunto la rimessa Sulle ali Dell'entusiasmo Dei tifosi Recupera ancora Pilò Che cerca Di andarsene In bello stile Esce Marco Voci Pilò lo evita Evita anche Mellace Prende la mira Tiro murato Da Conidi Che si immola Per evitare Che il tiro Arrivi nella zona Di Lombardo C'è ancora Il Borgia In attacco Palla al centro Colpo di testa Di Ienco Che sbroglia Una situazione Complicata Con Mungo Che tocca Per Voci Interviene Russo Recupera ancora Procopio Con Paparazzo Ancora Procopio Si chiude Il Borgia In ripiegamento E recupera Con decisione Con Alfieri Che lotta Decisissimo Evita Procopio Pressato In questo caso Da Procopio E Paparazzo E ancora Doria Vincenzo Con Fiorentino Che ruba palla Cerca di ragionare Scambia con Voci Domenico Fiorentino Se ne va Deciso E questa volta Il fallo Il fallo Ci sta tutto Ci sembra Che si tratti Proprio di Di Marco Doria Se non andiamo Se non andiamo Errati E questa volta Fiorentino Se ne stava andando In velocità E quindi giusta L'ammunizione Per il nome Per Citraro Appunto Che ha fermato Appunto Fiorentino Ammunizione Per Citraro E quindi Punizione Per quanto riguarda Il numero 11 Paparazzo Che si prepara A calciare di destro Vediamo ora Che scendono giù Addirittura Sono in quattro In area del Borgia Per quanto riguarda Il Montepaone Parabola arcuata Il pallone arriva Molto lungo Cerca sempre Il secondo palo Paparazzo E non succede niente E finisce E finisce In out Riparte ancora Ben in casa Con Mazzone Che riceve la palla Cerca di scambiarla Con Pilò Si inserisce Paparazzo Ancora Procopio Che controlla Tocca per Marco Voci Che difende il pallone Ma viene contratto Molto bene Paparazzo Cerca la Veronica Due volte E alla fine Il tiro Finisce in out 42esimo Del secondo tempo Montepaone 1 Borgia Vediamo che si scambiano Delle impressioni Alfieri e Magro Probabilmente Si dicono qualcosa Per poter migliorare La fase offensiva Del Borgia E ancora una serie Colpi di testa Con Mungo Fermato da Alfieri Che tocca poi Per Orlanducci E ancora una volta Ci pensa Ienco A bloccare La fase offensiva Del Borgia Da questo lato La corsia destra Del Borgia È bloccata Perché c'è Superienco A provvedere A ogni stop E intanto Mellace Che recupera la palla Gli viene strappata Dai piedi Ancora Orlanducci Elegantemente Scambio con Alfieri E Passafaro Passafaro Punta un avversario Mette in mezzo Per Pilò Che cerca di girarsi Petti nel pallone Vede poi Passafaro Gli appoggia ancora Il pallone Passafaro Evita un avversario Mette in mezzo Ribattuta Da parte di Canistrà E riparte ancora Il Montepaone Con Mungo In velocità Mungo Controlla il pallone Ha su di sé Due avversari Giustamente si ferma Si appoggia su Ienco Che poi Tocca per Paparazzo Anticipato Da un ogni presente Alfieri Segnala Un fallo Un intervento falloso Florio E Giuseppe Questi attimi Valgono anche loro Tutto il prezzo del biglietto Ma sicuramente Lo spettacolo di oggi Lo vale tutto Il prezzo del biglietto Anche perché Abbiamo visto una gara Intensa sotto ogni profilo Su tutto il rettangolo Di gioco Dove il Borgia Non demerita assolutamente La rete di misura Subita Ma il Montepaone Cerca di legittimare Il suo vantaggio Fino alla fine Intanto Ienco Ancora combatte Sulla fascia Recupera un pallone Finisce a Mungo Che evita il ritorno Dell'avversario Ancora Ienco E Mungo Cerca la Veronica E ancora lui Mungo Perienco Tra gli applausi E alla fine Finisce in calcio d'angolo E in questo momento Questi due giocatori Stanno facendo la differenza Sulla catena di sinistra Si scambiano il 5 Recuperano secondi Importanti E il Montepaone Ora batterà Un calcio d'angolo Con Mellaci A questo punto Bisogna adesso E cercherà lo scambio E cercherà di tenere Ancora in campo Il pallone Oppure batterà Direttamente Cercando il colpo di testa Di qualcuno Dei lunghi Scesi in aria Vediamo canistra C'è anche Marco Voci Da solo Arriva la palla Ribattuta di testa Dalla difesa Del Borgia Con Passafaro Che recupera ancora Il pallone A di fronte a Seienco Riesce a toccarlo Per la partenza Di Doria Contrato Dal raddoppio Di marcatura Con Conidi Ma Doria Riesce a resistere Attenzione C'è un compagno In aria di rigore Conidi E poi il raddoppio Di Cannistra E questa coppia Di centrali In questo momento Ha suggellato Una prestazione Importante Conidi E Cannistra Hanno fermato Una penetrazione Molto pericolosa Da parte del Borgia Attenzione Il colpo di testa Di Mazzotta Riceve un colpo Mungo E l'arbitro Interviene Perché in elevazione Appunto Mazzone Ha colpito Involontariamente Chiaramente Mungo E l'arbitro Appunto Si è fermato Temendo un qualsiasi Colpo Alla testa Così come Da regolamento 45esimo 23 secondi Dal coordinamento Giornalistico Non ci segnalano nulla Per quanto riguarda Il recupero Né tantomeno Ci segnala qualcosa Il signor Florio Che sicuramente Scodella la palla Per appunto Il giocatore Si tratta di Passafaro Che chiama Lombardo Chiedendogli appunto Di notare Che gli sta restituendo Restituendo il pallone Lombardo a sua volta Lo restituisce E quindi anche in una fase Convulsa di gioco Sicuramente Tutte e due le squadre Si comportano Da squadre Amanti dello sport Riparte ancora Vincenzo Dori Ha di fronte a sé Marco Voci Alza la testa Lancia in profondità Dove c'è però Un signor Conidi Che dice di no Procopio Protegge il pallone 46esimo di gioco Lancio per Marco Voci E forse questa volta Giuseppe C'era il fuorigioco Ma se c'era proprio Un filino Onestamente Io non l'ho visto In fuorigioco Sono partiti insieme Alfieri Recupera il pallone Tocca per Doria Scambio Arriva Doria Ma Cannistra E' un muro insormontabile Cannistra De Wall E Mungo Che riparte ancora Appoggiandosi verso Procopio Che protegge il pallone Si scontra con Rusto Ma la protezione E' ottimale Ienco Cerca di andarsene in velocità Tocca per Procopio Che ancora una volta Fa in maniera da proteggere il pallone E poi Bellace Calcia via La palla 46esimo 52 secondi Rimessa laterale Ma attenzione C'è tempo per una sostituzione Probabilmente Marco Voci E' quello che sarà sostituito Anzi no Si tratta di Procopio Al 47esimo Standing Ovation Per Salvatore Procopio Ed ingresso di Pirritano Sono due combattenti Due grandi giocatori Ma soprattutto Procopio E' uno che fa salire Tutta la sua squadra Quando c'è necessità Ecco che il numero 5 Rusto Effettua la rimessa Quindi ci saranno probabilmente 30 secondi aggiuntivi Al recupero Vista la sostituzione Rimessa laterale Ancora con Russo Il Borgia non ci sta Chiede palla Orlanducci Ma c'è Ienco Ancora una volta Pilò mette in mezzo Esce alla grande Con Idi E la palla Finisce in una zona di campo E Florio Vede qualcosa Vede probabilmente Un fallo E il Montepaone Può recuperare palla Respirare ancora E ripartire Quando siamo al 48esimo In corso Del secondo tempo Montepaone 1 Borgia 0 Il lancio è per Fiorentino Stop elegante Ha di fronte a sé Mazzone Tocco per il numero 16 Domenico Voci Che appoggia per Pirritano Pirritano Teckel E alla fine Citraro Anzi Mazzone Che gli mette la palla in out Ma si riprenderà Con un calcio di rinvio In favore del Borgia Riparte ancora il Borgia Riceve Vincenzo Doria Ha di fronte a sé Pirritano Cerca di lanciare la palla In profondità Con Idi Senza Fronzoli Rinvia E ancora il Borgia Che ragiona Il rilancio però È impreciso Nella zona di Orlanducci Alla grande Come Giacinto Facchetti Ienco Anticipa l'avversario Colpisce ancora di testa Ma Pilò non ci sta Cerca di combattere Fallo di mano Di Voci E tutti in the box Per l'ultima azione L'ultimo attacco del Borgia Con Pilò Che appunto Chiama tutti i suoi compagni Ad andare nell'area di rigore Del Monte Paone Questo fallo Commesso da Voci Dà al Borgia La possibilità Dell'ultimo assalto Disperato Alla Baionetta Ci sono perlomeno 8 giocatori del Borgia Al centro dell'area Arriva la parabola Esce con sicurezza Lombardo Applauditissimo Dai trifosi del Monte Paone Ma qui l'applauso È per tutti i giocatori In campo Che stanno dando vita A una partita Veramente esaltante E ancora Lombardo Che fa scorrere Qualche secondo 49esimo e 15 Al nostro cronometro La palla si impenna Probabilmente Florio Interpreta Sui cinque minuti Di recupero Marco Voci Marco Voci Tenta il pallonetto Se n'era andato In bello stile Ben in casa Si fa subito Dare il pallone Riparte ancora Il Borgia Con un calcio di rinvio Da parte di Ben in casa 49esimo e 36 secondi La palla si impenna Colpo di testa E ancora Paparazzo Che tocca Ma interviene Pilò Che ruba L'ennesimo pallone Paparazzo colpisce La palla Fischetto in bocca E finiscono le ostilità Perché il signor Florio Di Locri Fischia il finale Una grande partita Molto bella Giuseppe un commento Velocissimo Perché so che tu hai Altri impegni sportivi Si una gara Che vale davvero Molto per questo Montepaone Giocata sino alla fine Dove il Borgia Esce dal terreno di gioco A testa alta Dove il Montepaone Ha recitato in pieno Il suo ruolo In ogni angolo Del terreno di gioco E merita comunque La vittoria Perché per un pizzico In più la merita Ha avuto un grande guizzo Marco Voci Che ha regalato tre punti Ai suoi tifosi E noi ringraziamo Giuseppe Romeo Antonio Siciliano Maurizio Vatrano Pasquale Lentini Giuseppe Ranieri Nell'euforia Ho sbagliato il cognome Me ne scuso E mentre il pubblico Chiama sotto la tribuna Per il consueto saluto I giocatori del Montepaone S1 TV Con la squadra esteda 65 Ricordiamo ancora Pasquale Lentini E la voce di Giorgio De Filippis Saluta Dopo una partita Veramente esaltante Ricordando il risultato finale 1 a 0 Per il Montepaone Ha segnato Al ventottesimo Marco Voci Saluto ai tifosi Da parte Dei giocatori Del Montepaone E saluto Ai nostri telespettatori E anche a tutti Gli ultras del Borgia Da parte di S1 TV Grazie E a risentirci Al più presto Ricevitoria Gerace A Montepaone Ripo Da noi puoi giocare Superera 8 Totogol Totocalcio Trist giornaliere E Win4Life Ogni ora Agenzia autorizzata Per le scommesse sportive Matchpoint Ricariche telefoniche Pagamento bollette Dal 1975 Al tuo servizio Ed in attesa Della tua giocata vincente Puoi consumare Un gustoso aperitivo Nell'annesso bar Ricevitoria Gerace Vi aspettiamo In via Padre Pio A Montepaone Lido Su di noi Puoi scommetterci 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 Puoi scommetterci